Michele, eccomi, sono prontissima naturalmente. Buonasera a tutti, buonasera a tutti i telespettatori di Sport Italia che ci stanno seguendo live. Non vedo se è arrivato, potrebbe non essere arrivato, altrimenti sì. C'è, 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 c'è. L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Devono prendere, hanno fatto tante cessioni. Valgo pure io. Valgo di più, valgo di più. Da un euro posso andare. Può iniziare, noi gli abbiamo trasferito il nostro interesse per il giocatore, rispettiamo totalmente la loro scelta in questo momento, magari ci sentiremo più avanti. E io aggiungo alla luce, ragazzo, che è da apprezzare. Si parte per il ritiro? Da domani. Il vice presidente della regione Lombardia. Anche alla Spal, perché è stata una piazza molto importante per me che mi ha dato tanto e sarebbe... Innanzitutto, ma a noi non hanno chiesto ancora nulla, io non so nulla e comunque Kiko starà, spero che voglia stare con noi. La squadra del futuro, per cui confidiamo che rimanga con noi. Proprio su di lui. Io sa che non faccio mai trattative di mercato. No, vai, non esiste. Fino alla fine, arriva alla fine.